Credo che la giornata sia stata molto interessante e anche il tavolo su comunicare l'identità del lago abbia innanzitutto stato un dibattito molto vivace da diversi punti di vista e credo che si siano identificate alcune criticità. La prima è che il territorio è veramente ricco e complesso e questa ricchezza e complessità è difficile da comunicare e spesso genera tanta confusione e che invece sarebbe importante un lavoro di coordinamento, di programmazione per una comunicazione magari collettiva che ha tante cose, cioè trovare la narrazione giusta che riesce a dare a questa complessità, a questa ricchezza una sintesi efficace perché al momento credo che tutte le cose in qualche modo arrivano un po' sparpagliate e un po' confuse. trovare la forma per raccontare tutta la ricchezza, tutte le cose che ci sono in questo bellissimo territorio sarà credo la sfida di chi vuole comunicarlo.